pace fratelli e sorelle siamo di nuovo insieme all'inizio di questo nuovo giorno che il signore ci ha donato per meditare la sua parola la volta scorsa abbiamo concluso leggendo il verso 35 stamattina vi invito a leggere dal verso 44 fino al verso 46 salteremo i versi da 36 a 43 che vi invito a leggere ma sui quali non mi soffermerò a fare alcune meditazioni perché in questi versi c'è la spiegazione della parabola delle zizzanie verso 44 una parabola il tesoro nascosto versi da 45 46 un'altra parabola la perla di gran valore e anche qui come abbiamo visto ieri le interpretazioni che si possono dare sono diverse diversa a seconda del lato da cui viene vista questa parabola nel senso che secondo alcuni la parabola deve essere vista dal lato umano e quindi questo regno dei cieli che è simile a un tesoro nascosto che un uomo dopo averlo trovato nasconde per la gioia va e vende tutto quello che ha e compra quel campo e la figura di ciò che un uomo che trova l'evangelo realizza e deve fare chi trova l'evangelo in altre parole trova un grande tesoro e per poter mantenere questo tesoro nella sua vita deve essere pronta a rinunciare a tutto e in questo si ricorrerebbe all'idea che gesù disse che dobbiamo amare lui prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa il fatto che dobbiamo morire a noi stessi pur di poter ricevere un giorno la ricompensa della vita eterna e lo stesso naturalmente varrebbe per la parabola della perla di gran valore qui non c'è più un uomo che trova un tesoro in un campo ma un mercante che va alla ricerca di belle perle ne trova una di grande valore vende tutto quello che ha e la compra e in questo secondo alcuni ripeto ci sarebbe una presentazione di ciò che per l'uomo è l'evangelo c'è la figura di questo uomo che alla ricerca di qualcosa di bello di appagante che possa soddisfare la propria vita e questo qualcosa di bello e di appagante lo si può trovare solo nell'evangelo che quindi la perla di grande valore quella che cioè fa sì che l'uomo smetta di continuare ad andare alla ricerca perché non c'è nulla di più prezioso di esso e quindi ancora una volta chi trova questa perla va vende tutto quello che ha e compra questa perla naturalmente nel caso del cristiano non c'è un prezzo da pagare perché è stato pagato tutto da gesù sulla croce il quale nel morire prima respirare disse che tutto è compiuto e riallacciandoci a quanto troviamo scritto in isaia al capitolo 55 siamo chiamati a comprare senza denaro o come dice gesù nell'apocalisse alla chiesa della odicea siamo chiamati a prendere senza spendere beni particolari perché tutto è stato acquistato lì sulla croce ora accanto a questa interpretazione ce n'è un'altra secondo altri infatti nell'analizzare questa parabola dovremmo vedere in questo uomo che trova il tesoro in questo mercante che va alla ricerca di perle la figura di cristo di cristo che trova la sua gioia nella salvezza degli uomini che trova la sua perla di grande valore nella chiesa e che pur di poter avere la chiesa e pur di poter acquistare la salvezza è pronta a rinunciare a tutto e infatti gesù è venuto e ha rinunciato alla sua gloria svestendosi della sua maestà prendendo un corpo di carne e vivendo su questa terra una vita simile a quella di qualsiasi uomo e non solo su questa terra gesù fu sbeffeggiato fu alla fine del suo ministerio flagellato coronato di spina affisso a una croce e diede la cosa più preziosa cioè la vita per la nostra salvezza infatti per quel sacrificio noi possiamo essere salvati se lo accettiamo nella nostra vita beh anche qui dirvi qual è l'interpretazione giusta mi sembra voler forzare un po la mano quello che però voglio dire che ognuno di noi è giusto che meriti rifletti e realizzi che in ogni caso qualunque sia l'interpretazione vista come la migliore si può ricevere sempre un insegnamento credo che sia vero che gesù ha dato tutto pur di poterci vedere salvati e credo che sia altrettanto vero che ognuno di noi deve essere pronto a donare la sua vita al signore una volta che abbiamo realizzato questo grande amore che lui ha per noi non potremmo mai comprare la vita eterna paolo dice che per grazia che siamo salvati mediante la fede non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti è il dono di dio e questo dono però deve essere ricevuto nella nostra vita e una volta che viene ricevuto implica da parte nostra un impegno un impegno che conseguenza della salvezza ottenuta vale a dire quello di rinunciare a noi stessi per seguire il nostro maestro oggi abbiamo una lunga giornata davanti a noi ci sarà sicuramente da combattere però ricordiamoci abbiamo un grande valore agli occhi del signore e non dimentichiamoci che la cosa più la cosa più preziosa ancora più della famiglia ancora più del lavoro ancora più dei beni che possiamo avere la cosa più preziosa è il signore gesù cristo e a lui deve andare il primo posto nella nostra vita anche nella giornata di oggi dio ci benedica cari nella grazia grazie a tutti